8 metodi infallibili per sturare il lavandino e gli scarichi otturati Un lavandino otturato è un problema comune che può essere risolto facilmente senza chiamare un idraulico. Ecco, 8 metodi fai da te per sturare lo scarico. Dall'acqua bollente al bicarbonato e aceto, queste soluzioni naturali possono ripristinare il flusso d'acqua nel lavandino bloccato rapidamente. Se i rimedi naturali non funzionano, prova l'ostura lavandino o il serpente dell'idraulico per rimuovere le ostruzioni più persistenti. Non lasciatevi scoraggiare dagli scarichi intasati. Con un po' di pazienza e i giusti strumenti potrete risolvere il problema da soli.